Come si tratta di un progetto di ricerca e il cui obiettivo è quello di arrivare a una serie di materiali e di processi innovativi per applicazioni in ambito strutturale con il focus incentrato sull'alleggerimento. Alleggerimento senza perdere in quelle che sono le prestazioni dei componenti strutturali, in particolare gli aspetti principali sono l'assorbimento di energie in caso di urto per quello che riguarda ad esempio le applicazioni in ambito automotive oppure la dissipazione dell'energia in moti vibratori per quello che riguarda ad esempio le applicazioni industriali su macchine automatiche per il packaging. Questo consentirebbe in particolar modo di aumentare la cadenza produttiva perché si potrebbe crescere il numero di colpi al minuto senza perdere in efficienza da un punto di vista produttivo per quello che riguarda la precisione di posizionamento ad esempio. Quindi l'obiettivo macro di questo progetto che stiamo portando avanti è quello di identificare sin dalla fase di sintesi dei materiali quindi con i loro costituenti matrice e fibra per quello che riguarda in particolare i materiali compositi diciamo le linee guida per ottenere e massimizzare sin dalla fase iniziale di impostazione un componente strutturale alleggerito. I temi che verranno affrontati sono principalmente quello di determinare le caratteristiche delle matrici polimeriche, determinare le caratteristiche della fibra e la bagnabilità della stessa all'interno di un processo tecnologico di impregnazione e utilizzare poi il materiale composito così realizzato per applicazioni su componenti strutturali reali derivanti dalla richiesta del mercato in particolare dai settori industriali e automotive. Grazie per la visione!